Torniamo a combattere i mostri in Giappone anche questo mese. Iniziamo! Amici, bentornati sul canale e bentornati sul Recenso. Sono la videorubrica di libri, fumetti, manga, film e telefilm e benvenuti ovviamente in questo nostro appuntamento bimestrale sul combattimento dei mostri in Giappone sul combattimento dei kaiju. Sto con un po' la voce impastata perché ancora non sto bene ovviamente ma ho una caramella in bocca perché altrimenti mi viene da vomitare e quindi dobbiamo tenerci un attimo questa cosa così. Potevo registrare dopo che si fosse sciolta la caramella? Sì! L'ho fatto? No! Ma si sta sciogliendo quindi oggi parliamo del volume numero 6 di Kaiju edito come sempre da Star Comics e lo facciamo carichi proprio di forza, energia proprio come è questo volume. Un volume veramente molto molto interessante. L'introduzione che vediamo per questa storia, per questa nuova puntata non è diversa da quella che abbiamo visto nei mesi scorsi. Come si è interrotta quindi la vicenda nel volume precedente noi la riacchiappiamo a inizio di questo numero. Ritroviamo quindi il comandante Shinomiya che ha deciso di testare un po' le capacità di Kafka o meglio del suo kaiju numero 8 direttamente sul campo di battaglia e nel fare questo si sono quindi scontrati con tanti mostri. E finalmente in campo, prima quindi dell'inizio di questo volume, è arrivato anche il kaiju numero 9. La storia quindi riprende da questo scontro, riprende quindi da quelle che sono le azioni finali che abbiamo trovato nel volume numero 5. Ed è da lì quindi che ripartiamo e lo facciamo questa volta andando non più a vedere quelle che sono un po' le caratterizzazioni dei personaggi, dei vari quindi protagonisti che si succedono e si scambiavano un po' la ribalta in questa narrazione come abbiamo visto appunto fino a questo momento. nei volumi precedenti, ma anzi diamo per assodato quindi che ci sono stati presentati quelli che sono appunto gli attori protagonisti di questa storia e li vediamo quindi incentrati in una narrazione che diventa molto più corale ma allo stesso momento anche più profonda e che va quindi a toccare anche luoghi apparentemente vicini o lontani tra loro. Ed è proprio questo scambio che prima veniva fatto da un personaggio all'altro cercando quindi di andarlo anche a capire e a conoscere meglio che ora invece viene dato a saltare da una parte all'altra dei vari scontri e quindi cercare di dare una forma più omogenea, più coinvolgente anche conseguenziale delle azioni, delle varie azioni. Questo quindi è il nuovo modo di raccontare che è un po' un'evoluzione di quello che abbiamo visto fino a questo momento. Non più quindi i personaggi che devono essere introdotti e che ci devono quindi sembrare più familiari ma anzi una serie di eventi che si succedono l'uno con l'altro in un unico grande combattimento ma su più campi di battaglia. Questo è quindi un po' quello che ci aspettiamo da questa narrazione che viene un po' inserita come principale all'interno di questo numero. Ma assieme a questa narrazione c'è un ritmo diverso perché si intervalla a questa un combattimento nuovo, un combattimento diverso, un ritmo molto più coinvolgente e anche delle sensazioni completamente diverse rispetto a quello che vediamo e che abbiamo visto sino a questo momento. Perché se siamo quindi ormai abituati a vedere gli scontri, a vedere questi combattimenti ad alta tensione, ad alta velocità con dei ritmi veramente molto incalzanti e sostenuti, dall'altro lato c'è anche il rischio un po' di desensibilizzarci a tutto questo a farci di sembrare come se raccontassero sempre un po' le stesse cose. Per evitare quindi tutto questo, l'autore ci mette in mezzo una narrazione parallela che però non riguarda il campo di battaglia attuale, almeno non inizialmente, perché in realtà facciamo dei viaggi come dei flashback indietro nel tempo e questi flashback riguardano proprio il comandante Shinomiya e la figlia Kikoru perché appunto andiamo a esplorare in maniera molto profonda e approfondita il loro passato, il passato della loro famiglia. Veniamo quindi scollati da quelli che sono i ritmi della battaglia per entrare in un qualcosa che sembra darci un po' di riposo e soprattutto evita che ci sediamo e ci sentiamo un po' storditi dalla battaglia continua e perenne. Questo modo di fare ci presenta quindi dei personaggi che sono quindi raccontati nella loro umanità, quindi anche nei loro desideri, nei loro sogni ma allo stesso tempo sono comunque dei militari e quindi hanno la consapevolezza che ogni giorno è un dono, è un esserci ora, qui, adesso e che domani non c'è proprio alcun tipo di certezza, proprio perché sono dei militari. Nel fare questo quindi vediamo anche tutti appunto i sogni, le speranze e anche un po' quel senso così idealizzato della famiglia che ci viene così presentato, che però non ci allontana dal senso vero della famiglia quanto invece ci fa assaporare un po' la spensieratezza di questa casa così bella e domestica. È una contrapposizione veramente molto forte che appunto ritma, spezza l'azione del combattimento e però dall'altro lato se ci fa desiderare di avere un po' di tranquillità e anche di respiro da questi ritmi così forti è un po' ci inganna perché ritorna ovviamente nei vari punti in cui questo flashback si presenta quella sensazione di angoscia e quindi anche un ritmo molto più intenso, molto più forte di quello che può essere un semplice ricordare i momenti felici della propria vita. E questo flashback scopriamo essere un viaggio nella memoria del comandante stesso di Shinomiya che sostanzialmente ricorda i motivi per i quali lui è a capo delle forze di difesa e soprattutto anche le promesse che sono state fatte nella sua stessa famiglia affinché la figlia non dovesse subire alcun tipo di danno e perdita dal lavoro dei genitori. Questi due piatti di questa unica bilancia ci danno quindi una storia molto intensa, molto forte. Noi abbiamo visto sino a questo momento un racconto che si basava molto sulla caratterizzazione dei personaggi su quella che è la loro storia, su quella che è un po' la caratterizzazione, la personalizzazione il farli vedere un po' con quelle loro note distintive per capire anche di chi stiamo parlando visto che comunque è un racconto molto corale. Ora invece ci concentriamo anche a livello emotivo di più, nello specifico, sulle scelte, i motivi e i per come e i perché certe scelte sono state fatte, scelte molto dure, molto forti e anche stesso la reazione di Shinomigia nei riguardi quindi di questo Kaiju numero 9 sono completamente diverse rispetto a quello che abbiamo visto sinora ed è proprio sul Kaiju numero 9 che mi voglio concentrare perché questo racconto sfrutta questo combattimento, sfrutta anche questo racconto a flashback e a ricordi per darci ancora una volta qualche piccolo indizio in più su chi sia questo Kaiju numero 9 che abbiamo visto tornare ciclicamente fino ad ora in questi sei volumi. Stavolta ci viene dato un tassello in più di questo mistero ma invece di capire l'identità di questo Kaiju, i suoi motivi, le motivazioni e anche la sua stessa missione il mistero non fa altro che infittirsi. Se quindi c'è il racconto in profondità della famiglia Shinomigia dall'altro invece c'è un approfondimento ancora più forte e potente proprio di questo Kaiju che se da un lato sembrava essere uno e unico stavolta sembra chiamare un po' a rapporto, vedendosi in difficoltà, un certo beta e gamma che ci vengono rappresentati come se fossero degli sdoppiamenti o come se lui stesso si fosse separato in altre parti, in altri se stessi identici a lui. Questa cosa è micidiale, è una cosa assurda, fuori di testa proprio perché fino a quel momento sembrava che la minaccia fosse una, unica e sola. Ora invece sembra che questo mostro veramente non abbia freni, non abbia limiti. E mentre quindi ci raccontano questo mistero ci viene raccontato anche un po' il passato degli altri Kaiju che l'hanno preceduto. Quindi c'è veramente tanta tensione e nonostante l'autore Matsumoto continui a dire nelle introduzioni a questi volumi che solitamente le sue storie si concludono nel giro di cinque volumi qui devo dire la verità sta veramente dando tutto se stesso. Io non conosco le sue pubblicazioni precedenti a queste però se lui riesce addirittura a raccontarci e ad approfondire così tanto superando i suoi stessi limiti, superando quei paletti che si è dato come autore e creandosi quindi nuovi traguardi, nuove aspettative questo non fa altro quindi che giovare tantissimo alla narrazione che diventa molto più organica, molto più realistica veramente ha un sapore che se uno pure volesse durante la lettura prendere un attimo di pausa non lo può fare perché si rimane praticamente incollati su questo manga non si può e soprattutto non si vuole trovare un attimo di pausa il volume deve finire, uno solo deve bere io ho dovuto per forza fare una pausa perché non riuscivo a mantenere la maschera dell'aerosol quindi ho dovuto per forza fermarmi però il senso è proprio quello non vedevo l'ora che l'aerosol finisse per poter continuare a leggere una pausa che forse mi è costata il ritmo della lettura infatti sono tornato indietro di qualche tavola ma veramente di un coinvolgimento, di una forza, di una consistenza di un trasporto non solo emozionale, emotivo per quello che succede quindi agli Shinomiya ma anche ovviamente per quello che viene raccontato come sconto e che ormai abbiamo ben noto perché dal primo volume a oggi i combattimenti di questi personaggi cattivi e buoni quindi dei Kaiju e delle forze di difesa non fanno altro che ricordarci come combattono e anche mostrarci aspetti sempre nuovi lato del disegno non cambia nulla rispetto a quanto abbiamo visto in precedenza vengono ancora utilizzate queste impaginazioni a doppia tavola con questa vignetta più grande che occupa i tre quarti di questa doppia tavola che se da un lato non ci fa altro che entrare meglio nella vicenda farci assaporare quel dinamismo che possiamo dire a fermo immagine come se prendessimo in sovrapposizione più frame di un film e li vedessimo tutti uno sull'altro con il movimento dei personaggi così rapido e in successione dall'altro lato il rischio è sempre quello che poiché la pagina si infila la tavola si infila nella rilegatura purtroppo rischiamo che la bellezza e questo dinamismo un po' ne risenta proprio perché tagliato da questa rilegatura che si ruba parti delle immagini però sostanzialmente il disegno rimane lo stesso la forza, la potenza di queste armi, di questi movimenti ma anche proprio il dinamismo, la tridimensionalità, la forza di questi corpi non solo dei Kaiju ma anche quelli umani sono di una forza, di una potenza unici vengono raccontati sempre come veramente tanta ciccia c'è tanta carne, c'è forza, c'è massa, c'è volume dall'altro lato però questo volume non appesantisce ma anzi è di un dinamismo, di una leggerezza di una rapidità, di una ferinità incredibile mi sta piacendo tantissimo unico appunto che però voglio lasciare magari me lo dite anche voi se siete d'accordo se sono io me lo sono un po' diciamo perso è riguardo quelle che sono un po' le paure che Kafka e Bino sperimenta nel combattimento con questo Kaiju numero 9 perché ha il terrore di far del male ai suoi stessi compagni delle forze di difesa la sua stessa squadra questo come abbiamo visto è un elemento importante in questa narrazione perché oltre all'approfondimento dei Shinomiglia vediamo anche come la forza della famiglia la coesione di un gruppo funziona benissimo e anzi tutte le sensazioni familiari le responsabilità familiari vengono un po' traghettate anche dalla famiglia a questo gruppo di combattimento dall'altro lato però c'è sempre un po' questa paura di Kafka che ce lo rende molto umano molto reale non così tanto idealizzato e quindi poco realistico non c'è modo di avere a che fare con lui invece questo è un elemento che lo contraddistingue che aiuta il lettore ad entrare in contatto con lui però è il modo in cui questo viene raccontato che mi fa molto strano perché c'è un punto nella storia in cui lui per paura di far del male ai suoi compagni lo vediamo in un'azione in cui fa del male ai suoi compagni e non si capisce bene se quindi sono dei flash mentali se sono delle paure realizzate, idealizzate se in pratica tutto quello che sta succedendo e che vediamo succede solo nella sua mente o se invece quello che sta succedendo succede come se fossero delle visioni del Kaiju che ha dentro di sé quindi come ricordargli la sua natura è un modo in cui sono state introdotte che spezza il combattimento che vediamo in quel momento la concitazione delle scene che c'è in quel momento e quindi un po' dispiace me l'ha fatto un po' sentire in maniera diversa meno reale come se appunto cascasse di punto in bianco in un momento in cui non c'entrava praticamente niente facendo anche un po' perdere continuità al combattimento che si stava raccontando in quel momento però può anche essere stata una mia impressione vi aspetto nei commenti ditemi la vostra è proprio perché non voglio parlare solo io a riguardo ma io faccio un cappello generale poi ne voglio discutere assieme a voi vi aspetto nei commenti qui sotto fatemi sapere voi cosa ne pensate del numero 6 di questa saga del Kaiju numero 8 ditemi cosa vi è piaciuto cosa no cosa magari mi sono perso e così mi aiutate anche meglio a capire e a comprendere ditemi insomma il vostro pensiero a riguardo in attesa del numero 6 che mi dovrebbe arrivare nella prima settimana di marzo ho fatto il preordine staremo a vedere e quindi ci vedremo verso fine maggio inizi di giugno staremo a vedere non riesco a ricordare ora comunque ci vedremo sicuramente ma vi aspetto nei commenti qui sotto poi se questa puntata vi è piaciuta mettete un bel mi piace condividetela con i vostri amici soprattutto iscrivetevi e fate iscrivere al canale mi aiuta tantissimo crescere di numero così magari youtube mi spinge e attivate anche la campanella al lato per ricevere le notifiche dei nuovi video in pubblicazione mi trovate poi in tutti i social network che sono qui sotto nell'info box ma fate visita soprattutto a www.retrattinocenso.it e iscrivetevi nei gruppi facebook e telegram il salotto dei recenziali io sono Dario questa è Recenso e noi ci vediamo venerdì prossimo con una prossima puntata sempre qui sempre su Recenso pronti a sfogliare nuove storie e volare insieme nel mondo della fantasia